Il commissario Luigi Stefano Sorvino, che guida l'Agenzia Ambientale della Campania, lancia l'allarme ad Avellino servono misure straordinarie per il controllo dei livelli delle polveri sottili nell'aria. Troppi sforamenti, quelli già registrati nel 2019, secondo il commissario. È una problematica che viene attentamente monitorata e rispetto alla quale le amministrazioni territoriali, anche in un'ottica di aria vasta e di collaborazione coordinata, devono porre in essere una serie di misure. Un'emergenza che non risparmia a livello regionale le zone interne e quelle della costa. La Campania è una regione ampia e complessa, naturalmente le principali criticità di emergenza ambientale si concentrano nella conurbazione metropolitana, nell'area costiera, ma naturalmente anche le aree interne, quelle meno urbanizzate, non sono immuni da problematiche che devono essere adeguatamente affrontate. Oggi intanto una delegazione di funzionari del Ministero dell'Ambiente della Lituania ha visitato il laboratorio regionale OGM, struttura ARPAC, afferente al Dipartimento Provinciale di Avellino. Sono venuti a farci visita e ne siamo fieri per quanto riguarda la nostra eccellenza che è il nostro laboratorio regionalizzato dell'OGM. La visita nasce dalla convenzione tra Ispra e ARPAC, siglata nel 2018. La visita nasce da Ispra e ARPAC, siglata nel 2018.